Avviso alla gentile clientela. In merito alla situazione sanitaria attuale, il nostro esercizio ha deciso di sospendere le attività dalla data odierna data da destinarsi per dare un contributo alla comunità e tutelare la salute di tutti. Ringraziamo in anticipo della vostra comprensione. Questo l'avviso affisso in lingua italiana e ripetuto in lingua cinese sulla vetrina spenta del negozio Happy Home Mercatone di Via Mecenate ad Arezzo. Si tratta dunque, nei giorni dell'emergenza coronavirus in Italia, di un grandissimo gesto di responsabilità e altruismo del tutto volontario, messo in atto dai titolari cinesi nel punto vendita, dove tanti aritini ormai da molti anni si recano per acquistare abbigliamento, calzature, casalinghi e altri tipi di articoli. Decidere di chiudere temporaneamente un'attività rinunciando ai propri guadagni per non precauzionalmente mettere a rischio la salute pubblica è un gesto di rara educazione civica. E da quanto pare anche altre attività commerciali cinesi avrebbero preso la stessa decisione, un episodio che dovrebbe farci riflettere e abbattere in un colpo solo il muro del pregiudizio dettato spesso dalla mancata conoscenza dell'altro.